Wahey Kooch, benvenuti in questo nuovo video, sono Andralink91 ed oggi siamo nel nuovo evento per Yo-Kai Watch Puni Puni Siamo nella fabbrica dei Puni Puni, uno degli eventi che personalmente apprezzo di meno perché Sì ci sono Yo-Kai forti da affrontare però non mi piace tutto quanto il resto del livello come è impostato L'ho giochicchiato già le altre volte, comunque sia non mi ha mai attirato Dovrebbero esserci anche i cibi Yo-Kai, non ne so, cibi, non i cibi da mangiare, i cibi ovvero gli Yo-Kai puccettosi Chiamiamoli così, comunque sia andiamo subitissimo nelle quest per questo evento E ci sono, perfetto, eccole qua, ovviamente sono quasi sempre uguali però attenzione è l'evento con la Oajiki Ovvero con la fionda quindi forse stavolta potrei giocarlo un pochino di più l'evento della fabbrica Però, ad ogni modo, è un doppio evento diciamo Vediamo comunque sia quali sono le missioni, le quest per questo evento Il primo è di battere appunto il primo livello, più facile di tutti Poi abbiamo lo stage, dream match ma non bisogna per forza fare il dream match Bisogna semplicemente battere nel livello 28 Puni Nerorko Poi dobbiamo sconfiggere questo Yo-Kai che dovrebbe essere il Gran Prete, mi sembra Sì, il Gran Prete Katai, battendolo 5 volte appunto nell'evento della fionda Poi abbiamo lo stage segreto numero 1 che vi dirò anche come aprire sia il primo che il secondo E dobbiamo battere Spargipelo Sconfiggi a livello 45 senza usare continua Puni Weweren King Quindi Re Viverna Puni Sì, Re Viverna Puni Poi battete per 20 volte Gran Sacerdote Katai Ecco, Priste e Sacerdote appunto E giocate una volta all'attacco al punteggio Quindi insomma, piuttosto fattibili se giocate spesso a Puni Puni Ora, ora gli stage segreti come si aprono? Per aprire il primo stage segreto bisogna completare lo stage 21 con solo Yo-Kai della Tribù Misteriosa in squadra Ora, nel primo stage segreto che avete appena aperto c'è lo Yo-Kai Spargipelo Se non lo avete fatevelo amico perché vi servirà per aprire lo stage segreto numero 2 Per aprire lo stage segreto numero 2 bisogna completare lo stage 45 con Spargipelo in squadra E passiamo ora invece alle missioni per questo evento che sono sempre le più interessanti Oh, c'è la Niambo Coin Facciamo anche la Niambo Coin allora La prima è di sconfiggere Trisalamandra senza usare continua Trisalamandra lo troviamo nella primissima mappa di gioco Poi manda 10 spiriti agli amici Nell'attacco al punteggio totalizza un punteggio di 200.000 Beh, questo è facile E utilizza 60 Energy Max E scoppia 2500 o più Puni A quanto pare in queste Niambo Coin ci sono anche i ranghi Z Quindi se riuscite a prenderla usatela perché potrebbe uscire un rango Z Oppure se avete soldi da buttare Che poi ognuno con i suoi soldi ci fa quello che vuole Compratevi le Niambo Coin Io suggerirei di comprarne 11 Visto che si risparmia su una E potete provare a prendere i ranghi Z Ora andiamo però con le missioni vere e proprie Per questo evento Puni Puni Kobo Kobo è fabbrica per chi non lo sapesse Ok, colleziona 15 stelle nella prima mappa Colleziona 25 stelle nella prima mappa E colleziona tutte le stelle della prima mappa Ok, insomma i premi sono sempre quelli alla fine Colleziona 20 stelle nella seconda mappa Colleziona 35 stelle nella seconda mappa Colleziona tutte le stelle della seconda mappa Vogliamo continuare? Colleziona 25 stelle nella terza mappa Colleziona 40 stelle nella terza mappa E guarda un po' colleziona tutte le stelle nella terza mappa Mamma mia ragazzi Che cosa sarà mai? Ora arriviamo a quelle più succose Completa lo stage numero 2 in 105 secondi O meno E' un po' strana come missione Completa lo stage 4 andando una volta in Fever Time Completa lo stage 6 totalizzando 75.000 punti Completa lo stage 9 realizzando almeno 13 combo Questo dice di completare lo stage 12 con Puniko Ovvero Puni bambino Ma non so se è uno yokai singolo Grazie al potere dell'editing mi sono ricordato che Puniko è il primo yokai che troviamo nell'evento Nel primo stage Quindi fatevelo amico e completate questo stage con quello yokai Poi se completiamo 3 delle 5 missioni che abbiamo appena visto Receveremo un segreto dell'anima mini Mentre se ne completiamo tutte 150 punti yokai Poi andiamo nella seconda mappa e iniziamo con lo stage 14 Completalo con almeno il 50% dei punti salute Poi abbiamo lo stage 16 Completa lo stage 16 utilizzando meno di 3 energy max Completa lo stage 20 con Odiapesce in squadra Completa lo stage 28 facendo un singolo danno di 3000 con la tribù tosta Completa lo stage segreto numero 1 in meno di 75 secondi Completa 3 delle 5 missioni che abbiamo appena visto per ricevere un segreto dell'anima Completa tutte e 5 le missioni per ricevere 250 punti yokai Passiamo alle missioni finali Completa lo stage 32 scoppiando un massimo di 80 puni Completa lo stage 35 con una sola tribù di yokai in squadra Completa lo stage 37 con la tribù tosta Completa lo stage 45 Ok questa potrebbe essere un po' difficile Completate lo stage 45 realizzando un singolo danno di 20.000 con Robonian F risvegliato Non so Mi sembra si possa prendere in questo evento Perché in genere danno solo missioni con yokai che tu puoi prendere in questo evento Poi lo andremo a vedere Completa lo stage segreto numero 2 con solo yokai di rango A in squadra Completa 3 delle 5 missioni e completa tutte le missioni Bene e anche le missioni e le quest per questo evento sono fatte Tramite lo slot kai della fabbrica di puni Si può prendere appunto Robonian F risvegliato Quindi direi quindi velocissimamente di fare intanto il primo livello e fare anche il primo livello della fionda Così insomma da iniziare un pochino l'evento Dai tanto per Eccolo qua il gran sacerdote katai Che ci vuole affrontare nel primo livello della fionda Ovviamente scelgo il livello più basso 10 perché per i primi 5 livelli basta anche solo il potenziamento base Oh l'hanno modificato anche stavolta L'hanno rimesso come quando era di base Non bisogna più trascinare e poi lasciare L'hanno modificato ancora? Probabilmente non avete niente da fare Uh che sbaglio Però insomma tanto alla fine È facile A parte che ho usato uno yokai di livello 2 prima Per il primo quindi A parte no credo che questa qui sia proprio diversa dalle altre Quanto pare vuole fare un altro giro e facciamo un altro giro All'oggi modo QG video termina qui Io spero che vi sia d'aiuto per completare le missioni di questo evento Come sempre vi ringrazio per averlo seguito Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram Dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che verranno pubblicati anche nella pagina community Del mio canale YouTube Come sempre vi invito a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video Bye bye Ciao 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 Ciao